Grazie a tutti. Ma oggi è di elettricità che abbiamo bisogno. Possiamo trasformare l'energia cinetica del vento in energia meccanica e da questa, attraverso un generatore, in energia elettrica. Si pensa sempre a grandi pale, ma l'eolico è anche mini. Esistono generatori ad asse orizzontale o verticale particolarmente adatti a singole utenze. Serve solo vento. Perché non pensarci? Con il mini-eolico l'azienda agricola può produrre energia. Scopriamone una che ha investito in questa nuova tecnologia. L'azienda agrituristica Legginestre, che si trova a Pianoro, in provincia di Bologna, ha installato, oltre ad un impianto fotovoltaico su tetto, un generatore mini-eolico verticale della potenza di 20 kW. Secondo le stime dell'azienda, l'investimento di 90.000 euro complessivi si ripagherà in otto anni, rendendo autonoma l'intera struttura. Interessante, vero? Ma quanto costa? In quanto tempo si può ammortizzare? Quali sono i finanziamenti pubblici disponibili? Un impianto mini-eolico di potenza compresa tra 5 e 20 kW ha un costo che varia da 3 a 5.000 euro per kW. Il tempo di ritorno dell'investimento è solitamente tra i 7 e i 9 anni. È possibile installare questi tipi di impianti tramite contributi europei previsti nel piano di sviluppo rurale e usufruire di tariffe incentivanti per l'energia emessa in rete pagate dal gestore del servizio elettrico. Può essere un'ottima soluzione anche per la vostra azienda. Per saperne di più, rivolgetevi senza impegno agli sportelli informativi di Coldiretti. Grazie a tutti.